Una serata importante, una cerimonia sentita per tributare l'impegno, la professionalità di nostri maestri di diritto e di vita che hanno fatto la storia del nostro foro per ringraziarli per quanto fatto. Credo che anche per noi giovani avvocati che ci onoriamo di appartenere a questo ordine siano da esempio e da stimolo per far sì, anzi forse per ricordare la dignità alta che ha la professione di avvocato e che deve avere e che sempre più con noterevolezza deve assurgere a protagonista nel dibattito nazionale per giocare un ruolo di crescita, di stimolo non solo sotto il punto di vista giuridico ma anche nella crescita, nella dialettica socio-culturale della nostra città ma più in generale della nostra nazione. Una serata importante appunto per tributare, ringraziare i professionisti che hanno fatto la storia del foro di Palmi.